Allora per effettuare l'ordine per quanti lo desiderano su Amazon della nuova edizione del libro Irene ho scoperto che bisogna selezionare l'edizione corretta, quindi facendo una ricerca con Irene Massimo Cagliari ecco che salta fuori il libro. Una volta scelto bisogna andare su questo menu visualizza tutti i formati ed edizioni. Cliccandolo si apre un menu dove sono elencate le due edizioni questa è l'edizione originale e questa invece è la nuova edizione per cui per ordinare quella nuova bisogna cliccare sulla copertina che distinguete oltre che per il prezzo un pochettino più alto anche per la scritta in nero anziché in bianco eccolo qua. Cliccando siete ora nella pagina dell'edizione nuova ecco fatto